Nel corso del Film Fest ci sarà anche un ampio spazio per i cortometraggi, grazie appunto alla collaborazione della Civita Film Commission. Sì, noi siamo molto contenti di collaborare, come sempre abbracciamo ogni evento che è sul territorio, vuole fare cultura, parla di cinema e come in questo caso si occupa di sociale. Quindi quando Gabriella ci ha chiamato noi siamo stati felici di dare il nostro appoggio e il nostro aiuto gratuitamente perché occuparsi di disabili è una cosa importante. Noi lo facciamo sempre, lo facciamo anche con il Festival, con il Tolfa Short Film Fest, abbiamo collaborazioni sul sociale con Amnesty, con Legambiente, con Unicef e così via. Insomma, quindi siamo stati contenti di collaborare. Che tipo di cortometraggi saranno presentati? Abbiamo preparato una rassegna mista, dove c'è un po' di tutto, opere italiane e straniere, moltissime commedie, diciamo che abbiamo sempre un limite di tempo, quindi anche corti molto brevi, e soprattutto un'intera sezione dedicata alle opere prodotte sul territorio, quindi Civita Vecchia e dintorni. Lo ha detto lei, cultura e volontariato in questo festival. Sì, questo festival è il primo a Civita Vecchia, loro e anche noi come fondazione ci auguriamo che sia soltanto il primo passo verso un qualcosa che è importante anche per la città, perché sappiamo tutti che il cinema è cultura, poi loro fanno questo tipo di cultura per volontariato, per i disabili, con i disabili, per cui è una cosa alla quale, come tutti sapete, la fondazione tiene molto. È pronto a sbarcare anche a Civita Vecchia un film festival, un festival appunto dove il volontariato e la cultura si intrecciano. Sì, sarà un bellissimo festival, penso, perché il tema è l'amore e quindi c'è tutta una scelta di punti di vista sull'amore. Diciamo noi come associazione, ovviamente facendo volontariato, siamo portati verso l'amore, non c'è dubbio, perché non fai questa scelta se non ami, no? E speriamo che tutti si divertano perché, diciamo, la finalità è quella poi di dare una mano a delle persone emarginate, a dei disabili. Rinnoviamo l'appuntamento per questo festival, quando inizierà e dove si svolgerà? Allora, il Festival Film Fest comincia domenica prossima, 27, sarà alle 18, cominciamo con le rassegne dei corti alla sala del maschio e la sera invece alle ore 21 nel cortile e va dal 27 al 2 di agosto, quindi sono sette giorni di cinema, dove spero che verranno tutti. Che cosa appunto verrà proposto? Allora, l'idea di partenza era di giocare sui giovani autori, è stato un po' difficile perché ci sono stati dei contrattempi e noi abbiamo provato a mescolare le carte, cioè da una parte valorizzare alcuni film di talenti emergenti, ci sarà per esempio un'intera giornata dedicata al docufilm, che è una delle tendenze che il cinema italiano sta seguendo e non solo in Italia. Il resto invece abbiamo provato a ricorrere a una ricetta di più o meno 30 anni fa, che si usava durante l'estate romana, cioè l'idea è di giocare e di fare incontrare il pubblico di cineclub, quindi il pubblico di cinefili con invece la grande platea. Lì a Fortevedere ci sarà una grande platea. I film saranno alcuni impegnati, altri saranno commedie, perché il cinema è tutto, il cinema è soprattutto una grande capacità di raccontare storie. Ogni serata avrà un tema che gioca liberamente sul leitmotiv dell'amore. Si può parlare dell'amore per gli altri oppure dell'amore di sé, come farà un film francese molto curioso, che non so se qui è uscito, ma che è un film di nicchia. Ci sarà un film molto popolare come la lettrice di libri e poi ci saranno dei film che invece sono più calati nella realtà. L'idea è di consentire alla gente di guardare il cinema senza la paura di dover in qualche modo ragionare per categorie estetiche, come invece rivalutando il suo impatto emotivo e riuscendo a ristabilire una cosa che è davvero importante, quella della capacità e la possibilità di giocare sul cinema. Noi offrendo a ogni serata un sottotitolo cerchiamo soprattutto di suggerire questo e poi speriamo che la gente si diverta.